Pizza Luigi in svantaggio, ma Luca Ippoliti decide di sistemare le cose con una vera magia. Errore banale della difesa, giocata bestiale di Marras che col tacco inganna il portiere. Protegge il pallone con la suola, manda in porta il compagno, ecco Matteo Conti. Prima occasione, prima rete, il destro di Simone Palermo. Cece è in serata di Grazia, ne sa qualcosa il Why Not. Grazie a tutti.